In collaborazione con Antica Cantina di Canelli. Con alcune ore di ritardo rispetto alle previsioni, la neve è caduta sull'Astigiano, pochi centimetri ma sufficienti per creare un certo disagio e per verificare che i timori lanciati nei mesi scorsi dai comuni e dalla provincia fossero fondate. Gli automobilisti infatti denunciano la mancanza dello spargimento della sabbia e del sale lungo molte strade, circolazione rallentata soprattutto nelle strade secondarie dove il manto stradale ghiacciato ha anche provocato diversi incidenti. Praticamente per l'intera giornata la neve non è quasi più caduta ma in serata, secondo le previsioni, dovrebbero ricominciare le precipitazioni. Fortunatamente non saranno precipitazioni copiose ma ancora pochi centimetri che già dalla giornata di domani, sabato, potrebbero essere spazzati dalla pioggia. Si raccomanda comunque prudenza per l'eventuale ghiaccio sulle strade. Forse c'è una svolta nelle indagini dei furti con la spaccata che in queste ultime settimane hanno contato numerosi colpi ai danni dei commercianti astigiani. La scorsa notte gli agenti di una volante della questura hanno arrestato quattro giovani albanesi che poco prima avevano sfondato la vetrina di un bar ed avevano rubato denaro, liquori e grattevinci. Il tutto è accaduto poco dopo le tre di notte in via San Marco ai danni dell'omonimo bar San Marco. I poliziotti sono risaliti ai quattro grazie alla collaborazione degli abitanti della zona che svegliati dal rumore della vetrina del bar mandate in frantumi con una grossa pietra hanno segnalato l'accaduto. Gli arrestati sono Eriol Ceca e Sarnet Ligatai, entrambi di 23 anni, Mirsad Panskai di 24 anni e Paolo Mattigia di 27 anni. Sarebbe stata la neve a tradire i ladri. Infatti i poliziotti sono giunti nell'abitazione dei quattro malviventi situata poco distante seguendo le tracce di sangue lasciate sulla neve fresca appena caduta. Il ferito che si era tagliato i tendini di un braccio buttando, gettando nella vetrina il grosso masso è stato soccorso dagli stessi agenti di polizia che lo hanno portato all'ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Nell'abitazione, oltre a tutta la merce rubata nel bar, la polizia ha anche recuperato altra refurtiva, verosimilmente frutto degli altri colpi compiuti in altri negozi della città. Ed ora un'incredibile vicenda che sta vivendo un papà 43enne di Costigliole d'Asti. Non vede il figlio di 9 anni dal luglio scorso quando la sua ex moglie l'ha portato via, probabilmente in Polonia. Sandro Caruso, assistito dagli avvocati Alberto Masoero e Susanna Soria, sta cercando disperatamente di riportare il piccolo in Italia. La situazione è piuttosto complicata. Da una parte il ricorso al Tribunale dei minorenni per chiedere il rimpatrio del figlio che è ancora residente a Tortona dove viveva con la madre e comunque in affido condiviso col padre. Dall'altra parte una denuncia penale contro la mamma del piccolo che senza il consenso del genitore non avrebbe potuto espatriare. Sentiamo. Sei mesi che non vedo mio figlio e non riesco neanche a comunicare con mio figlio. Sei mesi l'ho sentito due o tre volte al telefono pilotato da sua madre perché nelle risposte si vedeva. Prima quando vi vedevate ogni quanto? Io in un mese lo vedevo tre weekend e in più lo portavo allo stadio quando giocava al Milan perché lui è tifoso del Milan, infatti gli ho fatto attesa del tifoso, tutto. Poi stravedeva per i fratellini, per me, per l'ambiente familiare nuovo perché lui là a Tortona con sua mamma era sempre solo a casa e allora non so niente. Sto telefonando sempre alla procura di Tortona. Voi pensate che sia in Polonia? Io penso che sia lì. Dall'ha telefonato cosa? Penso che sia lì. Però non avete nessuna certezza? No, no, no. Non so neanche se la procura ha fatto delle indagini per vedere se sono in Polonia perché loro la residenza c'era ancora in Tortona, non so neanche il ristorante dove lavorava se è veramente chiuso. Ho poche informazioni, tutto qua. Io veramente voglio vedere mio figlio, non trovarmelo a vedere in un altro posto, in un'altra situazione. che magari se non è in Polonia, se questa magari parte e va via in un altro posto, come si fa a sapere? Io confido di nuovo nella giustizia nel Tribunale di Tortona che mi dia delle risposte. E come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.